Una prima impressione su questa proposta di legge, in che modo potrebbe essere arricchita? Ma io la trovo molto completa, a dire il vero. Non ho avuto nemmeno tanto modo, un pochettino, di vagliare varie posizioni. Però, fondi ci sono, personale da inserire e operare nell'ambito della regione c'è. Quindi si rifà un po' delle norme nazionali che questa legge regionale amplifica e migliora. Quindi la ritengo molto valida, tutto qui.